Ancora morti in incidenti stradali questo fine settimana e di un morto e un ferito grave infatti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sulla Palermo Mazzara del Vallo. La vittima, un uomo di 53 anni, è deceduto sul colpo. Si chiamava Filippo Giacalone ed era originario di Partanna in provincia di Trapani. Alla guida di una Sub 3000, secondo una prima ricostruzione fornita dagli investigatori, ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardrail all'altezza del chilometro 24 nei pressi dello svincolo per Terrasini in direzione di Mazzara del Vallo. Un incidente autonomo, complice forse all'alta velocità, sul quale indaga la sezione infortunistica della polstrada, code e rallentamenti lungo il tratto autostradale, in seguito alla riduzione della carreggiata per permettere alla polizia stradale di effettuare i rilievi. Sul posto anche gli uomini dell'ANAS e il medico legale.